Per il Sergio è che io, come lo so, a memoria tutti i suoi articoli e quant'altro, insomma, anche se non ho mai avuto modo di stringergli la mano, ecco. Pensa che io venivo lì nella zona anni fa, ma venivo a trovare l'Orione, saprei senz'altro chi era l'Orione, è vero? Prima o poi anche io gli dicevo che saremmo andato a trovare il Sergio e poi invece la cosa non avvenne, insomma, ecco, io ero in giro per lavoro ai tempi, ma ti parlo già di diversi anni fa, però ecco, so benissimo la manualità, i progetti e quant'altro del Sergio, vero che non tante cose le ho fatte anch'io, io ho anche degli amplificatori appunto che sono stati ispirati dai suoi articoli, come la praticatoria in 23 con la TH, lì della Thomson, e altre cose con delle valvole russo, ma conosco ecco l'argomento, quindi mi parli di cose di cui so benissimo, insomma, di cui ancora ho tanta roba anch'io, eh. Sì, me lo saluterai, dai, fai gli auguri, e lo so che non ha cessato l'attività per quelle ragioni che mi hai detto, eh. e visto che appunto vi vedete ancora, ecco, tra le famiglie, insomma, insomma, sicuramente anche lui è uno dei grandi, vero, del nostro, non troppo, insomma, ecco, soprattutto per la grande passione, insomma, aver fatto tanti appunto articoli che credo conoscono tanti, ecco, o meno chi è appassionato veramente, insomma, eh. E d'altra parte anch'io, gli stadi di potenza sono tutti simbatti da me, è tanto pesante un'idea, insomma, eh. E quindi la passione è molto simile, insomma, ecco. Ti riascolto, è un piacere, da avanti, 24J, IF Italia 4, WCK, da la 4. Roger, Roger, Claudio!